Una serie televisiva non avrebbe avuto gli stessi colpi di scena che stanno vivendo Prati di Tivo e Prato Selva. La stagione estiva sembrava essere salva, dopo il diniego della sospensiva del Tar al ricorso contro la Gran Sasso Terramano dell'imprenditore Marco Finori, gestore degli impianti del comprensorio sciistico. Finori non aveva rispettato i termini del bando pubblico per la gestione delle infrastrutture di Prati di Tivo e Prato Selva, non presentandosi davanti al notaio per la firma definitiva e così la GST, dopo la decisione del Tribunale Amministrativo, stava già procedendo al rogito notarile per la vendita degli impianti alla ditta dei fratelli Persia. Questi ultimi erano arrivati secondi in graduatoria nel bando di evidenza pubblica, offrendo per l'acquisto delle infrastrutture 1.590.000 euro con il saldo dei crediti dovuti all'ASBUC. Era stata appena fissata la data per il contratto d'acquisto tra la Gran Sasso Terramano e i fratelli Persia quando è arrivata una doccia gelata per tutti. Il Consiglio di Stato ha concesso la sospensiva della sentenza del Tar, che si era dichiarato incompetente in materia, in attesa della trattazione collegiale del 12 luglio. Se il 12 luglio il Consiglio di Stato darà ragione a Finori, si riapriranno le trattative con la GST. Se gli darà torto, l'imprenditore marchigiano avrà 30 giorni per riconsegnare gli impianti. Comunque andrà, sarà un insuccesso per la stagione turistica estiva in montagna, che non è più da considerare a rischio. È praticamente saltata.